elder ring versione gameboy veramente come faccio a non portarvelo sul canale ve l'ho portato sono molto curioso di vederlo veramente vi scriverò giù nei commenti chi lo ha realizzato appena saputo la notizia ha detto no devo giocare per forza devo morire anche la non ci sarà il buon frigenzio mio personaggio di elder ring andate a vedere i video e ora ricomin... no è uguale si riparte dalla cripta non dalla cripta dalla vabbè diciamo dalla cripta no il suono non ci sarà non c'è il suono però io ho in mente di fare una versione di questo gameplay della durata di 30 minuti circa sia così naturale che vediamo però come si è la spada che forza oddio che fa no se rotola fantastico stavo dicendo voglio fare una versione così liscia come è stata concepita da dallo sviluppatore che ha fatto questo è del ring per gameboy e poi voglio mettere la una mia canzone un altro video gameplay però sarà questo qui praticamente con la canzone in 8 bit realizzata da me vediamo se riesco a farlo sicuro questa versione ci sarà allora qui andiamo intanto dove andiamo spero possa piacervi l'idea dove dobbiamo andare qua rotolando ma sulla sul ponte ok certo c'era il ponte con l'albero quello dorato ok tutto uguale è tutto uguale perciò adesso dovrei scoprire il boss che non posso ammazzare eccolo oddio no si sente il rumore ma qua non vinceremo mai siamo morti come nel del ring normale da fuori torrent fortuna ok sì certo il cavallo diciamo no che fa cioè uguale è un genio è un genio qui tutta la storia del ring ma che bellezza adesso siamo nella cripta quella vera no usciamo fuori cos'è questo per salvare allora la vita ce l'ho salva e continua gioco non vedete che mo ci sta pure quello col cavallo allora qua quello che devo parlare che non ricorda adesso che diceva ma si diceva senza vergogna insomma roba così ok ci diceva quello sostanzialmente che ci dice nel ring adesso muoio in inglese io fatico un po' lo ammetto devo studiarlo un po' lo so devo studiarlo un po' di più in inglese però comunque lo sappiamola un po' quello che è ok possiamo andare avanti allora se andiamo di qua no c'è quello col cavallo e però dobbiamo farlo perché poi dopo ci sono i soldati scappamo scappamo questo non riusciremo mai a batterlo adesso no non mi dite che questa è una runa è una runa però come faccio a potenziare il personaggio lo sto giocando con il joystick ok qui c'è quello lì ok che fa così e ora ci sono i soldati eccoli 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 eh ma se non c'ho la vita come facciamo siamo morti anche qui anche qui perdiamo sono morto e ricominciamo da qua cioè a me non mi bastava il del ring normale che cioè muovo adesso pure qui ma vedi quello non c'è più adesso vai ammazza prima quest'altro uno due tre quattro ok quest'altro via via ammazza e siamo rimorti eh non ho capito però come si fanno le cose intanto possiamo anche rotolare eh no la realizzazione è veramente ben fatta però se io scappassi sarebbe meglio questi non si possono fare niente via 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 scappiamo oh si vado qua dio core ed è qua chi è? oddio questa all'inizio si c'era questo non me lo ricordo ok accetta sì che forse ci dava una missione però non me la ricordo proprio assolutamente se ho passato talmente tanto tempo da prima che ho fatto di head and ring ah quando andiamo? oddio c'è sta questo mo chi è questo? ma quindi ci sono anche quelli a cavallo non mi ricordo mai i nomi quelli insomma tosti all'inizio sì questo che doveva ritornare al forte come no me lo ricordo che poi adesso non ricordo come si sviluppava la missione però insomma era questo intanto vediamo qua cosa c'è da fare ma ci manda sopra oddio questo è no questo è il ponte questo cos'è il ponte? perché vediamo l'albero vediamo qua che parla mi sa che questo è la il vaso lì quello grosso e sì che lo devo levare dalla pietra lì da proprio all'inizio di head and ring a un certo punto c'è uno che strilla ok abbiamo fatto sembra che abbiamo fatto sì era il vaso quello ok allora in quella direzione non posso andarci però posso andare di qua vediamo sto andando alla scena oddio questo oddio è il cane è il cane di qualcuno allora qua che era? è un altro cane beh i cani si ammazzano facilmente la vuole vedere qua dentro andiamo qua dentro no no via 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 un'altra volta il cane perché risparmano? non dovrebbero risparmare sì addio cuore proprio ammazzalo ammazzalo e sono morto una cosa incredibile riesco a morire in modi imbarazzanti anche qui una cosa assurda allora andiamo andiamo sotto ah è meglio sì è meglio un cavolo rimoro un'altra volta eh no andiamo sopra la vita però io vorrei capire come si fa la vita lì tutta la roba allora andiamo da start no da st'altra parte non mi ci mandava vero? no non ho capito come si fa la cosa per la vita tutta sta roba qua non l'ho capita è che devo fare allora adesso qua c'è un altro cane cioè la sensazione è l'elder ring è quello originale eh per il fatto che che è difficile quanto quello allora di là non ci posso andare di qua sì però mannaggia la mia sono rimorto un'altra volta non è possibile allora andiamo qua sotto vediamo altre terre oh che posto è ah questo è il ponte eh no questo c'è la cosa oddio chi era là dentro tante c'è eh però la per terra c'erano qualcosa da raccoglie no allora proviamo ad andare di qua a vedere cosa c'è tutte queste strade allora qualcosa riconosco allora qua non ci si può andare eh non ci si può andare da nessuna parte qua no qua ritorniamo lì ok allora devo proseguire da qua no qua mi diceva di no vero sì allora andiamo di qua qualcosa riconosco questo credo che sia il punto quello dove ci sono tutti i soldati e poi dopo dobbiamo andare l'ass... oddio questi una mi ha ammazzato e mi ha ammazzato questi cosa sono ah quelli sono ok quelli là che dicevo io a cavallo che erano tosti eccoli e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè allora vediamo da dove ci fa ripartire da qua addirittura sempre dall'idea sempre dall'ultimo servataggio no 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 però pure là a capi cosa c'è sta qui non è male eh ecco c'è la morte c'è c'è la morte rotola rotola sì vabbè rotola rotola via Maruna non cevamo niente perché non so non sto a capire che cosa stiamo facendo oh ed è qua ed è qua ed è qua vediamo qua anche senza ammazzare qualcuno eh ecchi lì qua c'è il castello e andiamo siamo morti un'altra volta no no c'è sta macca fa c'è sta macca fa e dove vado guarda qua io voglio entrare dentro al gate al castello la vedi e l'inglese poi mi esce eh a lì mi piacerebbe tanto entrarci cosa fa allora li salviamo qua vabbè salva e continua vero tanto è sempre qui eh ecco voglio entra qua dentro vai 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 ma non è tutto questo che punto ah questo è il punto quello degli degli arcieri eh sì questo è il punto degli arcieri perciò se io vado da qua no anzi io voglio andare no voglio andare qua e dicete no che posso se io ammazzo questo bellissimo che loro non si muovono eh veramente bellissimo come cosa ah ecco allora no salva e continua quindi già siamo arrivati sopra al castello quello grosso sopra non mi dica no ma no ma oddio salta pure ma no che figata in stile no foto fa per forza vai eh vabbè vabbè però se può fa come nel the ring se può fa se può fa che figata margit ok è tosto eh sarta è è è un macello è un macello per farlo però in stile proprio super mario castelvenia stili giochi qua allora dai lanciaci la cosa vai eh ma come faccio poi devo correre cioè lui ogni botta a me mi fa male ah ok va bene va bene devo fare la parte cioè in mezzo me lo metto attacco in mezzo attacco in mezzo ok cerchiamo da farlo però eh ok è così e poi ah maledetto è complicatissimo è complicatissimo però io andrò avanti finché riuscirò a farlo è come il ring se perdi perdi non c'è niente da far che poi lui ti lancia ste cose a capire un po' il discorso che lui che fa eh adesso sto a capire un po' di più però lui potrebbe variare sta situazione è quasi mamma mia sbagliato ma no non mi aveva colpito ma dai non mi aveva colpito allora cerchiamo di farlo ce la demo fa ce la demo fa per forza dai e tirami i cortellacci io ti faccio così bene ho sbagliato vai via via eh però si via buono 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 forse ho capito forse ehi ma quanto è tosto porca miseria peggio del ring devo visualizzare tutti i movimenti suoi e non avvicinarmi troppo perché se no la spada mi arriva prima e non riesco a capire il tempismo adesso si ok sta ok devo quanto t'ho capito adesso vai mamma mia se no lui non cambia cosa eh se non cambia configurazione eh non ce l'ho riuscito però mamma mia mamma mia zitti 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 daje 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 ci sono riuscito te prego si è donna a salvare però aspettate un attimo ci sono riuscito daje allora andiamo avanti daje e mo qua è tutto nuovo ah ok posso anche salvare qua cioè è stato molto più facile qui che comunque la difficoltà c'è oh madre oh madre ma non c'è a te incappucciato chi t'ha detto da 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 fa ste cavolate e come passiamo eh però dillo e ditelo e ditelo ditelo cioè sono più forti quelli così che vai 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 e vabbè e vabbè e vabbè è un super mario dark però veramente ottimamente realizzato niente ma la la parolaccia adesso esce tra un po' ok qua ho capito un po' la situazione bene adesso sto capito un po' di più aspetta aspetta qua ammazza ammazza andiamo sopra andiamo sopra che forza andiamo sopra ecco andiamo sotto e questi salva salva e continua non ho capito ancora come se parla sopra mannaggia la miseria forse è una questione di di controlli di questi cosa sono quelli sono sono le rane i castelli non riesco ad afferrare dove sono però diciamo che aia sono dentro ah sono dentro ok ho capito dove sto sto dentro al castello dopo il mostro ok 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 va benissimo ecco no questo si questo è ok si 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 qua qua era stato un macello in other ring pensate qua invece no ma è una vita cioè provo così ma niente you died ci riproviamo eh non è che c'è vergogna di provarci qua devo capirlo eh perché lui mi lancia a air poco e poi mi lancia qua cosa ah questo è tutto questa è tutta una questione ta ta e poi ritorna indietro allora prima di andare da questo però volevo un attimo divertirmi e andare a vedere altre cose qua eh no eh no però devo andare per forza di qua che che fanno allora studiamo un po' la situazione qua allora butta il fuoco ok lui butta il fuoco e poi fa qua eh però che lui mi colpisce cioè io basta che mi avvicino lui mi colpisce in automatico come da fare sta cosa dai eh no mi sono bruciato con tutte e due allora eh quanto è difficile qua vabbè fanno così eh no qua è un macello eh di cervello se non hai riflessi pronti a capire proprio come lui fa è un vero macello ok 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 che ci siamo dai ok che forse ho capito annaccia mannaccia mannaccia che io devo guardare l'accia non devo guardare per fuoco guardate 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 eh però ci siamo ho capito il sistema ho capito il sistema devo guardare l'accia non tanto il fuoco poi con il terzo occhio riesco a vedere tutto allora qui attenzione subito un salto vai ok andiamo qua perché lui la cambia ma guardate ma guardate è dura è dura è dura è dura è dura da fare allora riproviamoci perché ci siamo perché non farlo dai tanto in stile elder ring ok ora arriva il fuoco ma guardate se ho saltato prima vai no diventa diventa un magello veramente diventa a un certo punto diventa un magello vero allora rifacciamolo ok bene almeno almeno un danno guardate e poi aumenta anche di velocità maledizione eh ma è una vita mannaggia 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 continua continua ma che meglio cioè sostanzialmente non è difficile basta capire i movimenti ma insomma mannaggia mannaggia tiramose guardate no ma guarda non c'è arrivo per poco no mamma mia dai dai continua ok vai ta 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 eh no perché ah però io l'ho capito perché lui tira su anche la cosa perciò è una cosa in più difficile però è anche una soluzione ma vai 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 scatta subito mannaggia mannaggia una miseria oddio aumentate velocità daje 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 Mannaggia, farò si cacco come il The Ring. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Fattate, non ci riesco a arrivare. Eh, mai una vita, mai una vita, mai una vita così. Mannaggia, prima c'ero riuscito e me mancava solo un colpo. Un colpetto me mancava. Uno. Uno solo me ne mancava, vai. Eh, vabbè. E' come il The Ring, se... Uno deve stare calmo. Vai, Zen. Zen, sono un Zen. Vai, sono un Zen io. Vai. Sono un ninja. Sono un ninja. Mannaggia, ninja. Sono un ninja. Mannaggia, ninja. Ma che ninja? Cosa il ninja? Non sono un ninja. Dai, proviamoci, proviamoci. Vai. Maledizione. Lo devo fare. Dai, dai, dai. Se può fare. Se può fare. Carichiamoci. Se può fare. Si può fare. Si può fare. Dai, forza. Quei canzoni. Eh, vabbè. Che si può fare. Si può fare. Lo sappiamo che si può fare. Dai, forza. Quei canzoni. Eh, vabbè. Ci sono quei canzoni. Tipo eroiche. Che ne so, Alessandro Magno. Sta roba qua. E' il fuoco. Vai. Vai. Lascia la miseria. Sarta. Sarta. Non posso strillare. Sono le due del pomeriggio. Ho strillato. Ho strillato. Cos'è questo? Non so nulla. Si, diete si. Do sono nato. E' finito. Mamma mia. E' arrivato solo qui. E' arrivato. Ottimo però. Ottimo. Io adesso ho messo sì. Però voglio vedere se arriva anche più. Ma, ma, è bellissimo. Per il che voglio è bellissimo. Mi ha fatto patire. A me poi si sa capire. Non so buono a giocare. Fantastico. Guardate questo sito. Io ve lo metterò in descrizione. Veramente, veramente. Dove trovate anche i giochi che ho fatto. Amanda Adventure e altri giochi. Ora ve lo metterò questo gioco. In descrizione. Ok, se clicchiamo... Grazie, grazie a te che hai fatto questa perlina. Questa perlona, anzi. Veramente è bravissimo. Bellissimo. Mi è piaciuto un sacco. Questa devo fare qua. Questa è sta roba. Congratulazioni per completamente di Alden Ring e per il Game Boy. Portalo avanti. Chiunque tu sia. Portalo avanti perché è veramente bellissimo. Ho anche collezionato dieci Golden Runes. Fantastico. Se vi è piaciuto questo video gameplay, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi. Il meno arancione vi saluta e vi aspetta nel prossimo video. Un video gameplay di me e me e molto altro. Ciao. Ciao. Emo detto... Parolacce pure qua. Non è vero, non è mo detto i parolacce, però... Non è vero, non è vero, non è vero.